FIMER è a tutti gli effetti di Greybull McLaren. La società inglese ha infatti annunciato di aver completato con successo il versamento della prima trans di 5 milioni di euro nell'ambito dell'investimento complessivo di 50 milioni di euro, acquisendo il 100% della proprietà, operazione condotta in piena conformità con i termini stabiliti dal Tribunale di Milano che lo scorso 24 agosto ha dato il via libera alla richiesta di iniezione urgente di nuova finanza. Ulteriori capitali saranno investiti secondo le necessità e in linea con l'approvazione del Tribunale milanese. A questo passaggio segue poi l'ufficializzazione delle dimissioni del CDA in carica e la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, all'interno del quale Greybull McLaren avrà la maggioranza. Nominati infine Sam Hancock del ruolo di Cro, incaricato di condurre la società in un percorso di rilancio e di affrontare con determinazione le sfide future. I nostri piani sono chiari, fa sapere la società. Vogliamo riaffermare FIMER come leader mondiale nel suo settore. Faremo tutto il possibile per raggiungere questo obiettivo. Sembrerebbe dunque scongiurato il fallimento dopo la lunga serie di colpi di scena degli ultimi mesi.